ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi voglio spiegare come ricaricare una bomboletta spray che ha perso pressione oppure come riempirla e ricaricarla nel caso in cui il prodotto sia finito perché sono due le possibilità una quella in cui ancora col prodotto all'interno non erro di più è un appunto quella nel caso in cui abbiamo un prodotto come questo che è all'interno di un flaconcino ma che in realtà sarebbe più comodo da spruzzare quindi faccio vedere la procedura in sicurezza perché ragazzi stiamo mettendo sotto pressione una bomboletta in realtà non è dichiarato quale sia la pressione all'interno quindi andiamoci con cautela vi faccio vedere qual è la procedura corretta e come riuscire a ottenere un prodotto nuovo oppure per riutilizzare quello che c'è all'interno iniziamo e allora innanzitutto vediamo di cosa abbiamo bisogno ovviamente del prodotto da utilizzare di una bomboletta che possa essere scarica oppure di una bomboletta che possa essere ancora carica di prodotto ma priva di pressione in questo video però vedremo la procedura completa quindi come inserire prodotto e come poi mettere la pressione perché la procedura è praticamente la stessa su questa manca solamente l'inserimento del prodotto potete utilizzare qualunque tipo di bomboletta l'importante che se dovete utilizzarla per esempio per l'olio non sia una bomboletta che all'interno sia ancora sporca che so di colore quindi in questo caso completamente scarica assicuratevi che all'interno non ci sia più assolutamente pressione premete più volte poi fatto una piccola pausa premete nuovamente vedrete che ancora un po di gas uscirà quando non sentirete più la fuoriuscita del gas allora in quel caso vorrà dire che sarà completamente scarica vi conviene soprattutto riverniciarla comunque mettere una grande etichetta o carteggiare per rimuovere l'etichetta del prodotto precedente perché se per esempio lasciate l'etichetta del deodorante qualcuno inconsapevolmente può prenderlo utilizzarle come deodorante invece si spruzza per esempio qualcosa che serva per rimuovere le etichette allora può essere anche pericoloso allora vi spiego come funziona la valvola in questo stato se c'è pressione all'interno l'aria viene bloccata una volta premuta verso il basso libereremo la valvola e quindi potrà uscire l'aria e di conseguenza anche il prodotto allo stesso modo potrà entrare il prodotto all'interno della bomboletta utilizzate una siringa la classica siringa per le iniezioni assicuratevi ovviamente di utilizzare una siringa che abbia il diametro che vi permette di inserirla all'interno del collo altrimenti non vi riuscirà in realtà c'è anche la possibilità di utilizzare lo stesso flaconcino che contiene il prodotto che volete mettere all'interno della bomboletta basterà quindi forare il tappo con lo stesso diametro della cannuccia che volete utilizzare per travasare il prodotto e dopo premerla per far uscire il prodotto quindi versarlo travasarlo dalla bottiglietta originale alla bomboletta ma questo è possibile solo ed esclusivamente se il prodotto è molto liquido quindi si tratta di olio comunque prodotti che siano molto liquidi e non densi oppure nel caso in cui la bomboletta sia comprimibile nel caso in cui si tratta di contenitori in metallo oppure si si tratta di bomboletta in plastica con materiale rigido allora sarà difficile poterle premere e io vi consiglio utilizzare una siringa quindi facciamo in questo modo aspiriamo il prodotto vedete una densità che non gli permette di scorrere bene attraverso il tubicino semplicemente con la pressione e utilizzando la siringa potete premere direttamente all'interno della valvola quindi premendo in questo modo schiacciate e il prodotto andrà all'interno della bomboletta però in questo modo cosa facciamo stiamo introducendo una cosa che è un suo volume e quindi di conseguenza stiamo creando pressione all'interno ok inseriamo ancora un po di prodotto ecco già sta diventando un poco più difficile perché il volume occupato dal prodotto ovviamente e guardate sto tremando quindi faccio fatica allora a questo punto però dobbiamo far fuoriuscire l'aria che è entrata assicuratevi di non dirigerlo mai verso i vostri occhi era poca ma era sufficiente per creare resistenza ripetiamo finché riusciamo ok a questo punto abbiamo già il prodotto all'interno puliamo per bene puliamo anche la bomboletta ok e occupiamoci di mettere l'aria al suo interno arriva il momento più importante come avete visto si crea pressione già inserendo il prodotto sicuramente non è una pressione sufficiente a poterlo utilizzare ma la pressione che dobbiamo mettere all'interno per poterlo utilizzare deve essere controllata e noi non abbiamo i macchinari che ci permettono di capire quanta aria stiamo mettendo all'interno di questa bomboletta quindi utilizzeremo il nostro compressore allora io nel mio caso specifico ho l'abitudine di premere e lasciare andare all'interno un poco di aria senza esagerare ok basta qualche pompata in teoria potrebbe anche bastare in questo modo dipende ovviamente da quanto è denso il prodotto e a volte è necessario anche rimuovere questo beccuccio azzurro da questa parte perché questo è fatto per un deodorante quindi potrebbe anche non può riuscire facciamo la prova come vedete adesso la possibilità di spruzzare con lo spray il prodotto ed è meglio mettere poca aria ed eventualmente ricaricarla anziché esagerare mettere troppa aria anche se adesso hanno messo davvero pochissime altre 45 pompate si possono dare senza problemi 1 2 3 4 e 5 ok così mi fermo ovviamente assicuratevi anche che il prodotto non abbia sporcato l'ugello del vostro compressore altrimenti la prossima volta che spruzzerete spruzzerete aria e prodotto come faccio per capire però che all'interno di questa bomboletta c'è il prodotto che ho appena inserito facile nel mio caso specifico prenderò questa etichetta e la incollerò in modo da avere riportato lo stesso nome e le stesse descrizioni e le stesse avvertenze sulla bomboletta che utilizzerò con all'interno del prodotto e su questa lo scriverò a mano in modo che quando dovrà utilizzarlo saprò che dovrò versarlo qua dentro e riconoscerò sempre il contenuto dello stesso ok io mi ritengo soddisfatto ora posso utilizzarlo con comodità per raggiungere qualunque punto perfetto il prodotto che rimarrà qua all'interno posso riversarlo con comodità all'interno della bomboletta facendo la stessa procedura e in pochi secondi risolvere e oltre ad utilizzare i guanti a secondo del prodotto che state utilizzando ricordatevi comunque di utilizzare sempre gli occhialini protettivi perché stiamo lavorando con dei prodotti con pressione quindi sia quando ricarichiamo e quando versiamo con la siringa insomma c'è il rischio che qualche schizzo possa colpirci negli occhi e potrebbe effettivamente essere molto molto pericoloso quindi adesso ho il mio prodotto che posso spruzzare comodamente e sono felicissimo ricordatevi però ed è importante che alcune bombolette per esempio quelle della svitol possono funzionare sia in verticale tenute dritte che sottosopra quindi questo vi dà il rischio nel caso in cui voi cercate di svuotarla sottosopra che se ancora c'è del prodotto sia prima di avviare la procedura del riempimento che dopo aver messo il prodotto se volete scaricando scaricare un po di pressione che lo stesso prodotto possa uscire quindi assicuratevi della modalità di funzionamento della bomboletta che state utilizzando e ricordatevi di applicare sempre l'etichetta se riuscita a staccarla e vi consiglio casomai utilizzare anche un po per riscaldare l'etichetta staccarla facilmente oppure di scrivere chiaramente con il pennarello di quale prodotto si tratta e ricordatevi soprattutto di non esagerare con la pressione quando la caricate con il compressore bastano poche pompate nel caso in cui finiscano prima del previsto prendete il compressore date due pompate e ritorna di nuovo sotto pressione lo stesso discorso per le bombolette che sono ormai scariche di pressione ma ancora con il prodotto all'interno ma nel caso in cui però la bomboletta si sia scaricata perché ha perso da sotto sapete a volte capita che si vede che ci sia del prodotto lo fu riesce in quel caso potrebbe non essere più ermetica o comunque essere danneggiata quelle evitate di ricaricarle se sono prodotti corrosivi e allora la non si scherza ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto vi sia stato utile l'invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace cliccando qua sul pollicione all'insù cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto